ed eccoci allora in diretta anche oggi come tutti i sabati siamo tornati partiamo subito se volete partire subito con un mi piace noi vi ringraziamo e noi partiamo subito intanto che aspettiamo che si connetta qualcuno a farvi vedere i nuovi prodotti esatto sono rientrate queste fantastiche yamaka ns 590 sapete le più fighe sono le ns 1000 poi dopo c'erano le 690 queste sono le 590 che sono in condizioni favolose sono le tre vie hanno sempre il twitter delle ns 1000 però non montano il medio a cupola che vabbè però suono monitor veramente molto molto interessante prezzo chiedere ma qui delle novità ne abbiamo a bizzef per esempio queste tlcs 1.6 che gli è stato messo un parapolvere un po più grande del solito perché erano un po rovinatine sotto e c'è il prezzo perché mi pare so 850 euro 900 a fronte di un listino che era più mi pare di 2 7 una roba veramente folle ti fermo un secondo perché sono già arrivate le prime stelle siamo una community iper reattiva siamo già 200 in pronti via sì grazie fabio per le 50 stelle e il mitico emilio grazie a grande che ce le mandi sempre sono già arrivate le tante domande quindi volevo far vedere un po di roba poi facciamo vedere magari nel mentre quindi rimanete connessi perché insomma c'è tanta roba buongiorno a tutti i ragazzi quelli che ci stanno salutando ciao ermanno buongiorno ciao a tutti allora per un ampli sa 608 che casse consigli non so che cosa sia questo sa 608 che marca sia scusate che c'ho la tosse allora non lo so neanche io dire la verità e scusa mi sono perso un secondo allora streamer direte ne avete streamer continuiamo a consigliare il cocktail audio che sono i più toghi i più semplici a partire da questo che è quello che forse vendiamo di più ma ahimè è anche bello costoso perché parliamo dell'x45 che fa tutto oltre che streamer di rete lettore cd radio dub radio fm ju box perché si può immagazzinare tutto 1970 scontato ma è una bomba altrimenti il suo fratellino piccolino l'x14 che a dire la verità lo uso anche io nel mio impianto se forse è scollegato comunque sempre stesso software 650 euro oppure quello intermedio l'n25 che costa 1090 euro se ci mandi una mail comunque ti mandiamo tutte le specifiche si vede che sta iniziando a venire freddo la gente sta in casa perché siamo già 421 pronti via con te qui fa bella diretta vediamo due minuti allora intanto vi ringrazio per essere connessi tutti come sempre sabato ormai un appuntamento fisso che in tanti a tanti piace anche noi piace stare in diretta con voi se volete farci un regalo e mettere mi piace alla diretta condividerla e quant'altro noi ve ne siamo sempre grati partiamo con una domanda di cristiano come vedete le sonus faber sonetto 2 con le ma252 assolutamente una copiata molto molto valida le sonetto 2 che adesso vi faccio vedere le sonetto 1 eccole qua per chi non le conosce sono della sonus faber le stiamo stravendendo sia queste il modello piccolino le 1 che costano scontate ad oggi mi pare 1400 euro circa mentre le due sono un pochino più cicciottine hanno il woofer più grande no anche di altezza reflex anteriore riescono a coprire tutta la stanza senza problemi anche stanze di medie grandi dimensioni e vanno benissimo col 252 della macintosh che anche lì abbiamo delle buone offerte se vi interessa ne abbiamo anche uno usato però ci manca il telecomando adesso arriverà il telecomando poi lo mettiamo in vendita va bene detto questo la copiata è favolosa insomma non di non ti sbagli non ti puoi sbagliare tanta roba e chi per chi vuole fare invece un gradino inferiore visto che abbiamo qua di fianco ci sono anche le lumina 2 esatto siamo sotto i mille euro 6 diffusore ve lo consiglio arrivano già delle stelle luca complimenti ragazzi sempre un piacere seguire le vostre dirette luca la provincia di verona grazie mille e poi ne sono arrivate anche delle altre che schippo subito e vado a ringraziare di david cosa ne pensate in generale dei diffusori celestial oa celestial ha fatto la storia anche lei dei diffusori con le ditton se volete dei diffusori veramente come posso dire colorati pieni sicuramente le ditto fanno per voi ecco purtroppo dopo non è riuscita a stare al passo con la qualità e il carisma che aveva all'inizio quindi adesso è andato un pochino a scemare però tanta roba intanto che voi fate le domande vi faccio vedere una cosa che forse non avete visto filippo abbiamo ritirato dei girabubine no e filo pensato di fare di riempire questo angolo qua con girabubine della cai che penso che siano molto molto belli non li mettiamo in vendita ecco quello lì era il teach mio no e in più abbiamo preso questi altri tre qua che fanno anche un po figo li teniamo così da esposizione ci sentiamo molto fighi ecco così ok allora buongiorno sono un vostro fan e grazie alla vostra competenza e passione mi è tornata la voglia di farmi un impianto i5 vorrei partire da amplificatore bluetooth casse a torre e piatto un budget di mille euro guarda ti faccio vedere quello che vendiamo per che va per la maggiore advanced acoustic x i50 bluetooth entrata usb entrata fono regolazioni alti e bassi 430 euro poi diffusori li poi spaesare tra faccio un esempio giamo se queste costano 370 il modello dopo un filino di più oppure le magnat no per esempio queste sono le 2002 che sono molto grandi però le 1200 le stiamo vendendo molto bene mi sono una dimensione un pochino più home diciamo così saranno altine così sempre fatti in questa forma qua molto molto valide oppure le monitor audio sia le monitor 200 e monitor 300 che adesso te le vado a far vedere e dopo avevi parlato di giradischi o lettore cd non ricordo comunque lettore cd ok no scusa giradischi ok queste sono le monitor audio le monitor 200 ci sono alcune finiture vedi 520 euro quindi ci stiamo nel budget circa ok giradischi si può scegliere tra questo della project il t1 davvero davvero tanti perché il rapporto qualità prezzo è super esatto 330 euro col piatto in vetro c'è sono due finiture questo oppure nero quelle che vanno di più ma c'è anche il modello inferiore che non ha il piatto in vetro e costa 250 che devo dire che va veramente molto ma molto bene cristiano ci manda 100 stelle grazie per la risposta antonio ci manda 100 stelle grazie alessandro ci manda 100 stelle di buono alberta ci manda 100 stelle e vediamo che ce ne deve essere anche una con 99 ecco già che ci manda 49 stelle e ci fa anche una domanda quindi ovviamente rispondiamo che differenze sono tra exposur e yamaha chi piloterebbe meglio le monitor audio allora sono due mondi all'opposto yamaha guarda qua per esempio ti faccio vedere un audio video ma vabbè ma tanto per far vedere no suona molto lineare il medio alto sempre abbastanza in evidenza è un po come posso dire deve piacere il suono monitor ecco un po un po bello dettagliato ecco diciamo così exposur è completamente l'opposto tra gli amplificatori è sicuramente quello col basso più caldo più rotondo quindi considerate questa questa cosa qua mentre che siamo quasi a 700 siamo molto molto vicini vi ricordo e ricordo anche a mio fratello matteo che è di là in ufficio che sta rispondendo le vostre mail che abbiamo un gruppo sulla nostra pagina facebook dove potete fare tutte le domande siamo diventati più di 20 mila quindi abbiamo fatto un bel un bel salto e insomma le ricordo mio fratello di condividere questa diretta anche sul gruppo così anche gli appassionati del gruppo lo possono vedere e se volete scrivere se avete delle domande qualsiasi cosa quello è il posto perfetto siamo 701 grandissimi e fabio ci fa una domanda che ne pensate dell'indiana line nota 260 per un rotala 10 allora assolutamente sì però però se hai un soldino in più no ci sono le tesi 261 esattamente queste qua che mi pare siamo a 290 euro se non se ricordo bene c'è una grossa differenza cioè la serie tesi suona veramente molto meglio rispetto alla nota quindi fai le tue considerazioni questo è il mio consiglio ok allora un amplificatore da abbinare rimanendo sempre in tema indiana line alle tesi 5 e 60 che faccia uscire gli alti di cui sono piuttosto pigre pensavo ai rotel ma quali altri? beh i rotel vanno bene i rotel assolutamente sì perché lavorano bene nel medio alto noi Yamaha non la trattiamo però se trovi un Yamaha in giro usato nuovo anche quello lì potrebbe dare quel guizzettino che va bene tra le altre cose che noi trattiamo beh anche Block per esempio è un è un ampli abbastanza frizzantino no che non costa molto vedi qua li vedi in due colorazioni costa 290 euro c'ha il display c'ha l'entrata a fono è molto carino ed è un entry level nel prezzo insomma però in definitiva io starei su rotel che ti sbagli rotel non ti sbagli mai grazie Giuseppe per le 100 stelle grazie mille e anche a Ilia altre 100 stelle addirittura grazie grazie mille cosa ne pensate degli ultimi ampli Technics che su questo qua bisognerebbe farla a Ruffoni esatto sicuramente dice il problema è che noi siamo appunto vendita Technics ma la roba arriva poco non hanno un servizio come posso dire rapido per quanto ci riguarda al momento dell'ordine all'evasione dell'ordine la roba è un po' costosetta perché non è che fanno ampli cioè costicchiano quindi ancora li dobbiamo trattare però Technics è una garanzia cioè è una marca che ha sempre lavorato benissimo insomma con delle clip c'è Resi 3 un Magnate MA 900 può andar bene o c'è qualcosa di più adatto? beh allora quello lì va sicuramente molto bene che adesso te lo faccio vedere perché è scollegato quindi non possiamo accenderlo però comunque è un ibrido da 130 watt entrata a fondo, regolazioni alti, medie e bassi, uscita a cuffia veramente completissimo 1100 euro costa ed è suono abbastanza caldo cioè siamo quindi con l'Eresi va veramente molto ma molto bene anche Advance Acoustic può andare bene anche se la grana forse è un po' più grossa rispetto a quello della Magnate e poi dopo ci sono i musical fidelity che fanno una serie dalle M2, M3 e M5 che sono tutti adattissimi e forse è il più adatto sì però io ti dico la mia sull'Eresi 3 ci metterei un valvolare ah beh assolutamente ci metterei un sintesi su Roma o qualcosa di genere lì gli dà una dolcita ecco io farei così poi vedi tu insomma tipo ad esempio è arrivato questo qui che è tornato che ha tutte le valvole nuove Nightingale in classe A questo qua per l'Eresi sicuramente sì sì è vero è vero bravo filo quando la prova del Rotel Michi X5 allora l'X5 comincia ad essere un prodotto molto impegnativo come costo perché andiamo mi pare a 6500 euro di listino se non vado errato tanta tanta corrente quindi l'X3 lo vedo già più disponibile un po' per tutti perché secondo me con l'X5 ci avviciniamo non dico i costi dei Mekitosh però insomma i mostri sacri diciamo così e forse Kiva però adesso mercoledì viene il rappresentante che dobbiamo fare un discorso con forse GBL e quant'altro vediamo speriamo di avere delle novità vediamo da proporvi diciamo così Armando 50 stelle grazie mille ci chiede è disponibile un MC 275? no però penso che lo si possa avere in poco tempo perché se ricordo bene ho controllato il magazzino dell'importatore e c'era disponibile quindi mandaci una mail vediamo usato no nuovo sì usato abbiamo avuto un periodo che ne sono arrivati 3 o 4 che ne avevamo 2 o 3 quando avevamo ancora in negozio non messo poco insieme poi dopo un bel po' che non arrivano vabbè Alessio 100 stelle grazie mille perché non riprende in orizzontale perché Facebook digerisce meglio il formato verticale e promuove il formato verticale quindi insomma tutto un discorso di digeribilità di Facebook noi dobbiamo fare quello che Facebook ci dice se no ci manda giù e indietro esatto e allora ecco infatti come mai non scegliete anche di vendere la linea GBL che con Macintosh sono una favola? assolutamente ci stiamo lavorando c'è sempre un problema GBL fa adesso ha una linea economica ma chi compra Macintosh non prende la linea economica di GBL per avere una coppia di 4312 le nuove 4312 le L100 così ci vogliono 4000 euro 3500 4500 insomma andiamo su delle belle cifre però ti ho detto mercoledì viene il rappresentante perché l'ha preso Audiogamma che è un ottimo nostro fornitore ci fornisce anche i Rotel ci fornisce le BMW ci fornisce i Project quindi stiamo lavorando molto e vedremo cosa riusciamo a fare grazie Giuseppe per le 100 stelle buongiorno Davide Filippo bravissimi e soprattutto competenti è un piacere sentirvi grazie mille ci proviamo se faccio qualche strapacione fate finta di non sentire quale amplificatore per delle Pro AC Tablet 10? allora le Tablet 10 dovete sapere che sono dei diffusori piccolini più o meno hanno questa misura qua ok e sono le antagoniste delle 3-5 Rogers Kef e quant'altro quindi come tutti i diffusori piccolini un ampio un po' caldo gli fa bene ok quindi torniamo su il Magnat va benissimo i musical fidelity vanno benissimo hai capito? scusa se stiamo sempre con quelle marche lì però questo è quando la cosa va bene va bene Luca grande 100 stelle sono arrivate anche delle SB per te queste qui che le abbiamo finalmente fatte riconare e finite queste sono le 7-082 poi sono arrivate o meglio abbiamo sempre avuto queste qui che sono la serie 900 700 e poi ne è arrivata anche un'altra coppia qui dietro perché adesso non mi ricordo il modello ma tu sicuramente lo riconoscerai che è questa qui comunque grazie mille per le 100 stelle e per seguirci sempre perché è troppo gentile anche Marco ci manda 99 stelle grazie mille intanto divago un po' vi faccio vedere cosa ho lavorato perché dopo ti chiedono anche ti hanno già chiesto il prezzo indicativo di queste e intanto Mauro Bolognese ci manda 200 stelle quindi intanto ringraziamo ecco queste qua sono le 4320 no della GBL sono due vie con i componenti a 16 ohm ok dentro sono stupende fuori il cabinet un po' vissuto abbiamo cercato di tirarlo un pochino al meglio ok e il prezzo lo andremo a definire quando finiamo tutto adesso ci sto mettendo le lenti dopo vediamo il parapolvere insomma comunque componentistica tutta originale perché Ruffoni aveva dei dubbi ma gli ho fatto anche le foto dentro quindi quando metterò le cose metterò anche le foto dei componenti che sono stupendi i woofer sono stati appena ribordati quindi qua si va avanti una vita comunque questo tanto per fare un po' di cinema allora Davide ci manda 99 stelle Giulio 100 stelle Sandra 100 stelle grazie mille grazie Andrea 100 stelle Dimitri 100 stelle ragazzi grazie a tutti quelli che ci supportano con le stelle e tanto siamo 723 qual era il record 725 continuiamo a salire 732 siccome mi ha fatto tutti i record oggi e mi scuso con le domande a cui non riusciamo a rispondere perché vedete ce ne sono talmente tante ne provo a pescare lo schermo è piccolino pesco quelle che mi vengono più all'occhio subito giradischi con piatto in acrilico il disco va direttamente sul piatto o va comunque usato il feltro puoi scegliere quello che vuoi alcuni mettono il feltro alcuni mettono anche il sughero dicono che il suono si asciuga leggermente io quelle cose lì ci credo un po' poco però oppure poi se ti piace vedere l'acrilico quando ti arrivi al disco lo lasci lì e sei già posto roxan k3 monitor audio silver 500 nella mia stanza qualche problema di rimbombo siamo circa in 50 metri quadri sono distanti 50 centimetri dal muro cosa consigliate grazie allora tu hai due due opzioni o la classica spugna dentro il condotto reflex è una cosa che si fa addirittura dentro alle confezioni molte volte c'è se non c'è ci puoi mettere una spugna la fai tu in qualche maniera vedi un po' come reagisce punte sotto i diffusori oppure prova a alzarle un pochino con qualche libro le alzi di 10 centimetri e vedi se ti migliora qualcosa se ti migliora qualcosa magari vai da un falegname oppure col brico fai tu capito gli fai un supporto un pochino altino perché alzando il diffusore il basso viene un pochino a meno poi c'è sempre da dire che per evitare attenuare quel lavoro bisogna che la stanza sia piena esatto tappeto per terra quello fa molto libreria metti qualcosa negli angoli prova a lavorare sull'acustica della stanza assolutamente almeno fai delle prove perché quello cambia il 90% per chi ci segue il Roxan K3 è questo qua che adesso noi ne abbiamo l'ultimo 1.390 super scontato altrimenti il prezzo scontato che gira adesso è 1.490 Ferdinando ci manda 100 stelle grazie mille aspetta che sono arrivate 100 stelle adesso le ringraziamo tutte le GBL dietro ma le vendi quelle parlavamo delle 4333 secondo me o delle L100 tutte e due le teniamo non le vendiamo e siamo alla ricerca se ci sono tipo delle 4350 4345 se qualcuno ce le ha ce le vuole proporre vendiamo le compriamo qui in esposizione in negozio filo meno 100 stelle grazie mille e poi dopo ci facevano una domanda sulle Linton 85 che tra l'altro abbiamo disponibili per avere un suono dinamico con bassi qual è l'amplificatore migliore? allora le Linton bisogna stare molto attenti perché sono accattivanti all'estetica ci sono delle recensioni in giro tutti ne parlano bene ed è così suonano bene ma non vi aspettate il diffusore pieno di bassi così perché è un diffusore monitor allora torno sempre a dire gli ampli con più diciamo punch sotto con più coso partiamo dal basso gli advanced acoustic ok hanno un bel basso che sia questo qua per esempio la 7 che è il sinto ampli l'XE 75 anche il 50 però insomma qui forse siamo un pochino sotto come caratura altrimenti i musical fidelity che ve li vado a far vedere che quelli hanno un basso però non verrà mai fuori il basso colorato da quei diffusori c'è stato un grosso entusiasmo su questi diffusori lì e su questi diffusori Warfare sia le Linton che le Evo sono degli ottimi diffusori rimangono degli ottimi diffusori però secondo me alcune persone si aspettavano il diffusore definitivo anche dal punto di vista del basso bello pieno corposo invece è più un diffusore monitor diciamo così c'è tutta la serie le M2 le M3 partiamo da mi pare 780 1080 e poi dopo andiamo alle M5 a 1.6 che sono diffusori cioè suono amplificatori che suonano caldi intanto divago un attimo stiamo vendendo benissimo le Nova 2 che hanno un prezzo folle perché parliamo di 10.000 passa di restino però il diffusore che stiamo vendendo di più è incredibile più forse di quelle economiche abbiamo una scontistica molto importante quindi se vi interessa e questi sono dei oltre che suonare benissimo sono dei mobili la gente li porta a casa e diventano un mobilio di altissimo livello è per questo che anche la gente li compra perché sono dei mobili ecco scusate ma è anche arredamento ragazzi fanno arredamento quelli lì capito quindi avete praticamente due opere d'arte e poi a parte a parte questo per me a mio gusto questa insieme io propendo sempre più per le gold 300 che per me hanno il basso più profondo che sono le mie preferite però queste vengono sicuramente come seconde quindi tanta roba allora aspetta che ringraziamo le stelle perché ne sono arrivate sono rimasto molto indietro 100 stelle di Roberto grazie grazie ciao felice un mitico allora adesso corro subito alle stelle ecco Danilo che ci manda 100 stelle ci fa anche una domanda vorrei sostituire il mio Macintosh 71-50 con l'MC252 cassa di BW 703 pre-C46 grazie mille allora l'MC252 che ce l'abbiamo di là esatto esatto è un ampli sicuramente molto più attuale e moderno rispetto al tuo ok quindi di solito chi aveva dei vecchi Macintosh e passa a questi più recenti trova un pochino più di velocità il classico calore Macintosh perché hai trasformatore d'uscita e quindi nessun problema però trova un pochino più di velocità io mi sento di consigliartelo però sai sono tanti soldi da investire quindi vi lascio a voi la decisione ecco allora Alessandro si manda 100 stelle grazie mille ho sempre il problema che le domande lunghe con le stelle non riesco a leggerlo perché non mi viene scritto mi viene continuo a leggere non riesco a leggere per favore fai copia e incolla rimetti la domanda che ti rispondo molto molto volentieri siete forti Alex 100 stelle David 100 stelle grazie mille le 7 barra 08 le vendete sì certo le troverai sul sito il fine settimana domani mattina mi alzo presto mi metto al giornale sito vedrai che al pomeriggio le troverai sul sito con le foto e descrizione le che fr3 sono ancora disponibili per adesso sono fermate dal nostro client ah non sono più fermate no allora sono disponibili ci vuole una gran pazienza a fare questo mestiere perché mandano 10 mail vengo il 5 di novembre no scusa vengo l'8 di novembre no vengo il 23 di novembre ti mando un acconto noi diciamo no guarda non c'è bisogno di mandare un acconto basta che mi lasci il numero di telefono e mi dici più o meno quando vieni non abbiamo bisogno di niente perché per fortuna ancora ci fidiamo della gente diciamo nel frattempo arrivano altre mail diciamo ad altri clienti no non sono fermate così e poi dopo e poi dopo va a finire che i diffusori rimangono lì e noi facciamo brutta figura anche con chi abbiamo detto che non sono disponibili comunque va bene andiamo avanti va bene ci incazzano tutti sempre ma vedo che è una cosa abbastanza sì in tutti i settori la gente si è abbastanza innervosito diciamo così giuseppe 100 stelle aldo 50 stelle andrea 100 stelle ragazzi grazie mille meglio un puccini anniversary o il saggen 21 se oh stai parlando di due oggetti che suonano da dio benissimo tutti e due io preferirei il saggen no per il mio gusto personale ma anche l'anniversario suona bene allora ragazzi scusate ma mi sa che sono rimasto indietro con le domande e ce ne sono talmente tante che spero di non ne ho persa sicuramente qualcuna allora ecco per sapere se le clips RF7 prima serie per ascoltare pop, classic e jazz un MA352 ci sta allora sì sì però però eh l'RF7 sono abbastanza tra le clips morbide però in generale sono abbastanza eh fanno un pochino questo effetto qua quindi piuttosto del 352 io opterei per tipo l'8009 hai capito che ha i trasformatori d'uscita e suona più morbido rispetto al 352 quindi io dopo anche 352 è una macchina stupenda che va da dio con quei diffusori ci chiedono se abbiamo pre e finale della Marans abbiamo questo Totem che una bella parte l'abbiamo già venduti un Model 170 e poi dopo verrà fuori il suo preamplificatore che l'abbiamo fatto ricontrollare che è il 3250 se no abbiamo un integrato che secondo me è molto bello che è l'1152 di C quindi un bellissimo un bellissimo lavoro ma diffusori per Macintosh MA 6008 allora l'MA 6008 io mi ricordo il 6850 che mi è passato qua davanti tante volte penso che il 6008 cambi ben poco ha un effetto ludness incredibile quel amplificatore lì quindi il basso è molto molto in evidenza quindi io direi di stare in diffusori abbastanza lineari e qui allora qui sì che torniamo fuori con per esempio le Warfedel le 4.4 che vedi qua che costano attorno ai 1500 euro Twitter a nastro medio cupola vedi hanno i woofer con la sospensione con il Kevlar e quindi sono abbastanza compatte come tipo di suono e queste secondo me ci stanno proprio come il caccio sui maccheroni anche la monitor audio sia quelle che parlava prima il ragazzo le bronze il ragazzo di prima sarà stato un ragazzo sicuramente le bronze 500 oppure le lì andrebbero bene anche le gold 200 se ci mandi una mail comunque ti rispondiamo ti diamo i nostri consigli poi dopo sai non è facile lo voglio mettere qua perché mi piace questo questo trio qua questo totem qua al posto delle linton per un suono caldo meno monitor cosa consigliate? allora per stare su questa fascia di prezzo più o meno io ti consiglio mio personale parere le lumina non sono proprio calde come tipo di timbre che è un suono che io definisco un pochino più neutro però riprendono alcune caratteristiche del suono monitor pure rimanendo un diffusore caldo quindi la lumina sia la 3 che la 5 1790 e la 5 un pochino di più 2350 se non vado erato 2250 2350 tutto ciò che riguarda Sonus Faber ultimamente le lumina e le olimpica sono forse i nostri best seller sono forse i diffusori che io devo dire che Sonus Faber ha fatto un salto di qualità anche nei diffusori economici che voi non avete un'idea deve esserci un progettista qualche ingegnere del suono qualche d'uno che ha veramente ai maroni no ma sta lavorando bene Sonus Faber perché hanno tirato fuori questo medio alto che prima era un po' sempre cupo sempre un po' come posso dire sono riuscito a tirare fuori questo medio alto bellino percepito ma sempre vellutato è il basso classico di Sonus Faber che non ha mai avuto problemi Sonus Faber è l'unica azienda secondo me italiana che lavora in una maniera moderna perché fa dei diffusori che suonano benissimo adesso hanno grossa presenza sui social si impegnano molto dal punto di vista sito, grafica contenuti per me sono davvero hanno lanciato proprio il brand ecco nel vero termine della parola che pochi altri riescono forse BMW ci riesce Clipsch sì però fa roba un po' più è per un più un mercato internazionale è un altro discorso McIntosh ci riesce a fare quello però Sonus Faber per quanto riguarda l'Italia per me sono i numeri uno da quel punto di vista e fanno dei grandissimi diffusori quindi sono sempre straconsigliati e poi tengono anche il valore nel tempo che quello lì assolutamente non fa mai male Rosario grazie mille per le 100 stelle avete delle casse acustiche Snell CV no come dicevo prima abbiamo le TE che ci assomigliano un po' come suono le 1.6 che c'è il prezzone secondo me e come suono siamo lì Emanuele ci manda 100 stelle grazie mille Emanuele grazie ecco Alessandro che ci ha amato 100 stelle ora ha rifatto la domanda e penso fossi tu ci rispondiamo un parere sul mio impianto ampli Sony APM 141 ES sì lettore CD Denon 10D 720 e diffusori Sony APM 141 ES quindi saranno la stessa storia ok con le QDW quadrati eh ho capito allora lì con poco con pochi soldi secondo me se cambi diffusori fai un bel upgrade lì in base alle tue come posso dire finanze ti do qualche qualche cosa allora tanto per dire andiamo qua beh queste sono morbide ok quindi se uno passa a delle Sony come quelle lì a queste qua forse ci trova un bel basso pieno però magari non ci sente quel medio alto che deve sentire stavo cercando eccole qua queste le abbiamo provate anche ieri con un signore e sono molto molto valide sono le Tempus 33 della Magnat hanno il basso che comunque rimane caldo avvolgente che viene ripreso da Indiana Line e il medio alto è molto più frizzante sì esatto quindi io penso che con 280 euro adesso ne abbiamo ancora pochi in casa mi pare una scatola o due perché adesso tutta la roba è difficile farla arrivare oppure anche queste monitor audio le monitor 100 che costano un filino di più 310 euro sono due diffusori che puoi prendere in considerazione perché suonano bene ti fanno tutti i generi e hanno quel medio alto un pochino frizzantino e il basso bello rotondino io le consiglio e Amlab li avete ancora? assolutamente sì ne abbiamo venduti da quando abbiamo fatto il video li abbiamo cominciato a consigliare tanti che addirittura Manuele non riesce a stare dietro alla produzione o meglio li sta facendo ma ne abbiamo venduti penso 4-5 accoppiate pre-finale in questi ultimi questo ultimo mese insomma da quando li abbiamo presentati sono un prodotto italiano adesso non ce li ho da farvi vedere perché ci vanno via come il pane con i V-meter un bel pre di ultima generazione tanta roba mi piacendo molto sono molto bene hanno qualche faccio sempre qualche critica perché sai parliamo sempre tutto bene tutto bello di tanto ci sta anche la critica dal mio punto di vista qualche dettaglio si potrebbe curare meglio esteticamente parlo sì l'unica pecca di questi prodotti ma se come tanti non siete solamente interessati all'estetica quello è un prodotto che ha rapporto da prezzo devastante tra l'altro rimane dentro a certi parametri di prezzo che è un discorso da fare Roberto 99 stelle grazie mille miglior abbinamento con Rotel A12 in Rotel A12 può andare un pochino con tutto dipende se vuoi diffusori da pavimento o da scaffale ad esempio le monitor audio vanno benissimo le magnet vanno benissimo per esempio le monitor 300 queste qua con l'ampli lì le abbiamo vendute tante volte sabato scorso abbiamo venduto due coppie con sempre i Rotel di queste qua i clienti sono rimasti veramente soddisfatti e tanta roba con le monitor 300 le magnet vanno bene le magnet vanno bene assolutamente forse Clipsch ci guarderei un pochino meglio perché rischi di accedere però tanta roba insomma allora l'Eastern & Co bellissimo si l'Eastern & Co un bellissimo prodotto che diffusione allora Advance Acustica 10 ne abbiamo venduti una marea ormai li abbiamo già finiti li abbiamo venduti 15-16 in una settimana c'era chi ci prendeva in giro nei commenti che dicevo vi stai riusciti a prendere l'ultimo 10 mi prendevano in giro tutto però poi dopo li abbiamo finiti come sempre in una settimana allora quindi che diffusori consigli per un Advance Acustica 10 ci puoi mettere insomma quello che ti fa è un ampi piuttosto caldo quindi occhio a dei diffusori pomposi chiamiamoli così perché non è un abbinamento giusto vedrei più dei diffusorini un pochino veloci torniamo a Warfeder per esempio è una bella copiata anche le Tannoy le F6 che ve le vado a far vedere le stiamo vendendo benissimo sono diffusori molto molto generici con un rapporto qualità prezzo importante eccoli qua siamo su un migliaio d'euro come diffusore oppure anche quello da scaffale che costa esattamente la metà più o meno 500-550 vanno tutti e due molto ma molto bene per il mio gusto perché sono centratissimi Francesco 100 stelle grazie mille avete letto la prova di Lumina 3 su Affe Digitale concordate io non l'ho letta quindi non posso dire sinceramente allora noi dobbiamo andare avanti con la nostra strada col nostro modo abbiamo visto che piace molto perché qui su internet in giro destra e sinistra ci sono scritte anche delle fandomie sicuramente non quelle di Affe Digitale che sono bravissimi quindi non discuto anzi tu hai fatto bene a dirmi io la vado a leggere perché mi piace sentire anche cosa dicono gente che è molto più colta di me molto più brava anche a scrivere sicuramente noi abbiamo il nostro modo e ci fa abbastanza ridere quando per email per telefono ma il guru della situazione ha detto questo il guru ha detto quell'altro non me ne frega un cazzo ok di quello che dicono i guru in giro perché perché non è così ecco il 99% non è così i guru state attenti che dicono delle cose che non hanno il prodotto non hanno il prodotto non hanno niente ok mi raccontava l'amico Gombi di Marans Italia delle scene che quando vanno a fare avevano fatto una cena della sì cos'è che aveva detto che c'era un forum della rega della rega esatto che c'era quello che sembrava che sapessi di tutto e dava consiglio della sinistra l'hanno chiamato alla cena gli hanno detto ma tu non aveva dei rega non sapeva neanche di cosa stava parlando capito quindi occhio ragazzi il bello e il brutto di internet far credere c'è la possibilità di esprimersi la possibilità di arrivare a tanta gente la possibilità di dire la propria e tante volte anche aiutare ma tante volte c'è anche la possibilità di fingere e dire delle cazzate perché tante volte va a finire così che tanti poi avete visto che io ogni tanto faccio vedere qualche cosa anche al torno una cosa io è 56 anni sì è 40 anni che tornisco no nonostante tutto c'è quello che mi insegna a me a tornire no hai capito perché ti dice no ma devi far così devi far colà va beh dai è stato bellissimo poi dopo finiamo perché se no andiamo troppo a me piace quando i video con Daniele sì sì gli insegnano gli insegno Daniele due generazioni che fa le cose è bravissimo anche a ribordare i woofer c'era uno che inizia a dire no ma non si fa così si usa la colla due componenti per incollare prova a incollare con la colla due componenti di woofer e dopo quando c'è da ricambiarli cosa fai e poi dopo c'era questo qua che diceva dietro allora uno gli fa ma tu hai mai ribordato un woofer e lui fa no io ho letto che si fa così ma allora andiamo avanti con le domande Claudio ci manda 99 stelle grazie cavolo mi è scomparsa la domanda rifammela perché ci aveva fatto anche una domanda nel mentre scusami non l'ho letta se me la rimandi ti rispondo sicuramente vi faccio vedere questi Yamaha qua bellissimi questo tuner e questo Amplici a 8 e 10 è il suo tuner sono bellissimi mi pare sotto i 500 euro l'integrato e toni 200 euro il tuner ecco tanto per mentre che aspettiamo Gaetano ci manda 100 stelle e ci fa anche una domanda grazie intanto Gaetano sto usando delle Rowen R1 by AR su un impianto Cyrus allora io le ho avute quelle di quei diffusori lì e mi pareva proprio che non andassero male AR è una cioè voglio dire hanno fatto diffusori hanno insegnato tutti a fare diffusori quindi è una bella copiata di solito quando però c'è di mezzo AR succede che è un suono molto composto quindi il tuo amplificatorino di tipo inglese che suona benissimo non so come dire non vorrei che diventa una roba un po' cupa ecco questa è la mia la mia sensazione forse un ampli un pochino più frizzantino tipo un Marans tipo un Pioneer hai capito potrebbe anche fargli bene dopo i puristi mi diranno Davide non capisci niente ci chiedono se è sufficiente Roxanne K3 per delle Illumina 5 assolutamente bellissima copiata è una bella copiata Ferdinando 50 stelle grazie mille Copland CTA 408 cosa mi sconsiglia tra le Elac Vela 409 oppure le Sonus Faber Olimpica allora le Sonus Faber Olimpica è una serie molto bella ma molto difficile da pilotare cioè lì è un delirio andare lì a mettere un amplificatore quindi le Elac io quelle lì non le conosco però ti posso dire la mia esperienza con le Olimpica che sono diffusori se becchi l'amplificatore giusto incredibili ma se becchi l'amplificatore sbagliato rendono poco ecco Stefano amici mi piace chiamarvi così è stato emozionante tornare da voi bello il nostro il nuovo covo poi PS le mie Sonus Faber sono rinate col Maestro 70 grazie guarda Maestro 70 ne avevamo due evidentemente uno è andato a questo signore qua o questo ragazzo qua come piace? ah ecco il medico si 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 suona bene il Maestro 70 suona bene non c'è niente da fare adesso abbiamo un Puccini 70 è una fascia sotto costa anche meno però anche quello è un bel cosa Luigi avete una coppia di Sonus Faber un Puccini 70 2 usata? ahimè no le abbiamo nuove purtroppo 1780 1850 1890 1890 ciao ragazzi vi seguo con entusiasmo grazie Arturo mi dite la vostra su Polk Audio Polk Audio dovete sapere che avevano rovinato completamente il marchio lì il grande magazzino lì il mercatutto il mercatone che invece negli Stati Uniti lavorano benissimo e facevano anche ogni tanto mi capitava qualche prodotto di fascia alta ls15 mi pare lsi qualcosa del genere adesso l'ha preso in mano Maranz Italia stanno arrivando dei prodotti molto molto interessanti beh vabbè queste da 150 euro sono imbattibili il rapporto qualità-prezzo 45 145 cioè qua non ce n'è per nessuno ma anche andando queste qua è una serie appena uscite a 700 euro devo dire che suonano veramente molto ma molto bene quindi il marchio sta tornando a un certo a un certo livello grazie Giovanni per le 100 stelle Claudio che c'era già grande Simon 100 stelle grazie mille cosa ne pensi degli amplificatori valvolari Dared assolutamente validissimo io vi voglio raccontare la storia di Dared perché è bella intanto ve li faccio vedere ne faccio vedere uno no questo è il PM60 era forse tra i più venduti con le 5881 le valvole che sono antagoniste delle L34 si possono scambiare con le L34 ma queste sono un pochino più calde va bene allora il mio amico di Imola era l'importatore bellissimo un personaggio che viene giù quasi da Marte perché una di quelle persone antiche come una volta che la parola è la parola quindi sono andato a prendere tante cose e lui era riuscito a diventare importatore Dared per un po' di anni gli ha importati a prezzi veramente ottimi poi Dared gli ha aumentato i prezzi come fanno i cinesi quando una roba va gli ha aumentato del doppio tre volte allora dopo ha smesso però per esempio questo oggettino qua molto molto carino tutta la serie Dared è buona insomma è roba fatta come si deve Mirko ci manda 100 stelle grazie mille Mirko adesso allora cosa ne pensate delle Indian Align DJ 308 le avevamo sia la 308 che quella più grande che penso fosse la 3010 rapporto qualità prezzo tanta roba chi le ha prese ha fatto l'affare perché costava un 250 euro si fa si fa davvero fatica a trovare qualcosa di quel livello secondo me sì Francesco 100 stelle grazie grazie mille grazie arrivo subito adesso mi provo a rimettere un attimo in pari perché siamo andati siamo andati un pochino indietro con le domande allora sì Claudio alla fine gli amplificatori del valore della dare abbiamo risposto spero che tu abbia seguito la risposto questo qua ci stavo pensando avevo parlato con Matteo riguardo un sorteggio perché non fare una lotteria di fine anno 100 biletti 100 euro si potrebbe fare se uno fa una lotteria sarebbe bello solo che bisogna vedere perché si potrebbe fare anche online solo che non so dal punto di vista legale come funziona perché so che la facevano in alcuni gruppi che seguivo poi dopo hanno avuto dei problemi con i pagamenti una cosa e l'altra però ci pensiamo perché se uno staccasse un biglietto di lotteria di fine anno sono sicuro che in tanti farebbe piacere farla Omar grazie mille per le 100 stelle il signor Ruffoni è andato a fare il vaccino no il signor Ruffoni è andato alla fiera agraria una roba del genere mi ha detto Filippo ci manda 100 stelle grazie mille è andato a una fiera per le mucche la stalla che c'è i suoi mici che fanno così si si triangol borea BR08 come suonano col Marantz NR1002 si ci può stare ecco sappi che tutti i Marantz amplificatori sono come posso dire hanno il medio alto abbastanza in evidenza il basso un pochino spinto ma il medio abbastanza un po' indietro quei diffusori lì sono abbastanza chiari quindi mi se riesci a trovare un Denon DRA800 forse è più adatto a quei diffusori lì e ti fa le stesse cose perché è sempre streamer è sempre Sinto Ampli è l'antagonista del Marantz Alessandro ci manda 200 stelle grazie mille mi propongono Woodside LSA 230 ce la farà pilotare le mie GBL L100 Century purtroppo questo Woodside qua non me lo ricordo e quindi non lo so mai me non ti posso rispondere Stefano ci manda 100 stelle grazie Ferdinando altre 50 stelle con CTA 408 Copland che diffusori consigliate sì mi pare che avevi mandato la domanda anche prima di solito ultimamente Copland sta facendo gli amplificatori un pochino lineari montano gli ampli sono passati dalle 6550 alle KT150 se non vado errato anche gli ibridi sono abbastanza asciuttini quindi diffusori caldi dipende quanto vuoi investire però per esempio il re o la regina dei diffusori caldi è sicuramente ProAC che fa tutta una serie purtroppo abbastanza costosa però se ci mandi una mail ti diamo i consigli che possiamo hai capito oppure come dice Filippo se hai gli scale monitor audio gold 300 quelli vanno veramente bene perché ha una certa maniera a gol però un po' di skate perché anche Antonio tombolato che vedo che prima hai fatto la domanda scusa se non ti ho risposto vuole che lui c'è le gold 300 che ha preso qui con il 9000 vuole cambiare le gold 300 con delle focal ho già visto che smanetta che si sta pensando stai attento perché quel basso non lo trovi più vedi che i nostri iscritti sanno sicuramente più di noi da quel punto di vista per fare la lotteria bisogna fare la comunicazione al MEF e versare la cauzione e quindi sempre lavoro in più lavoro in più che purtroppo siamo un po' uberati per la lotteria bisogna fare un regolamento e denunciarlo al ministero se no si fa come fa il barbiere ad esempio di paese che la fa qui un po' così però visto che abbiamo siamo troppo su siamo un po' su non siamo il barbiere ecco Alessandro 100 stelle grazie continua ad arrivare stelle a manetta tanti complimenti possiede una coppia di quad 22L che ampli ci abbinereste allora le 22L se non vado errato sono quelle piccoline col woofer in cover una simile qua un simile questi qua quindi un ampli se sono quelle che intendo io perché sai con questi nomi queste cose ci serve un ampli un po' caldo puoi andare con gli advanced acoustic per esempio l'XE 75 che comincia ad avere una bella corrente costa 650 euro c'hai l'entrata USB sia a chiavetta che da computer l'entrata phone regolazioni alti e bassi e te lo consiglio molto Nicola 100 stelle grazie grazie mille anche Filippo 100 stelle che ci fa anche una domanda quali diffusori con il C48 e il 302 della Macintosh quel temo lo dico in italiano quello che vuoi perché lì c'è corrente c'è andiamo a far vedere eh ah ok comunque ti risponde la mail ma visto che siamo qua 100 stelle i diffusori sono questi qua cioè l'amplificatore è questo qua il pre finale sono questi qua no e lì puoi spaisare con non ti sbagli mai tutta la serie le sonetto per esempio ci sta le tre le cinque capito le 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 nuova vanno tutte benissimo hai capito per stare in monitor audio come diceva Filippo la serie gold ci sta proprio capito comunque dopo vedrai che poi ti arriverà la risposta di Matteo Vincenzo 100 stelle grazie anche a Domenico 100 stelle come vedete le Magna Transpulse 1000 con un finale single handed di 300 B allora sì 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 ricordati che allora il single handed 300 B suona benissimo nel medio alto però non ha tanta birra sotto perché è una valvola sola e poi quella valvola lì è proprio fatta così come tipo di suono quindi le 1000 non hanno un basso così esteso hanno un basso da palco quindi se hai lo spazio le 1500 che già ti arrotondano un pochino di più oppure un altro tipo di diffusori io perché no le le clips con le 300 B le le 8 e 20 vanno molto bene perché hanno due woofer da 20 quindi il basso esce bene il medio alto è raffinato e con quella tromba lì va bene io ti consiglio le clips guarda sono sincero mares mares 100 stelle grazie mille mi trovate un paio di foca a scala utopia della serie utopia ne abbiamo avuto mi pare un paio di volte perché costavano veramente tanto ed è difficile che giri no insomma che ora vi ha fatto venire sì direi che sono le 9 qualche minuto noi ragazzi vi dobbiamo ringraziare perché sono arrivati un casino di stelle un casino di mi piace e abbiamo fatto il record di utenti connessi 782 secondo me abbiamo fatto mai successo quindi grazie grazie 700 persone connesse di media quindi insomma qualcuno che ci ha ascoltato c'è stato e scusate a tutti quelli che non siamo riusciti a rispondere ma come vedete le domande arrivano a rotta di collo se volete metterci un ultimo mi piace noi vi ringraziamo la diretta verrà salvata e quindi potete rivedervela in tranquillità con calma sono 50 minuti quando non avete niente da fare mettete su questa diretta noi vi ringraziamo e ora apriamo il negozio e andiamo avanti grazie e ciao da Davide Matteo e Filippo grazie grazie